20 giorni a Natale, poche ore sarai qui qui c'è Goliath e soprattutto qui abbiamo uno degli elementi essenziali adesso del progetto La Resistenza vedete sta montando il suo strumento, già si sente in lontananza dunque, allora, Bugo tutti lo cercavano, accendiamo il microfono ed eccolo qui, finalmente cosa succede? C'è Bugo, Resist allora, in diretta dal Resist Studio, qui si prova, anzi, quanta più musica si fa nel Resist Studio, tanto meno tempo c'è per i video comunque, siamo tutti qua, si resiste, i pezzi nuovi stanno venendo bene e adesso a sorpresa, musica con Emiliano allora, siamo tornati nel Resist Studio, si schiarisce la voce DJ Steph, poi abbiamo il grande Emiliano e Patrick che si è riunito con il suo weight drum dunque Resist queste vacanze lunghissime con te dieci giorni a Natale e succede che sei ancora lì preascolto con Emiliano nel Resist Studio allora, in diretta dal Resist Studio, con Emiliano, stiamo buttando giù le tracce, adesso abbiamo registrato la traccia guida di un pezzo particolare con un paio di cambi di atmosfera, diciamo, e adesso tocca a quello più impegnato Diretta dal Resist Studio c'è il grande Emiliano e insomma stiamo portando avanti quelle tre canzoni Resistere parte il countdown allora, un saluto a tutti da Resist Studio, il Ginos è pronto, in modo di ex anche, avete intravisto Emiliano, ma ci rivolgeremo innanzitutto come sempre, caro vecchio, Motif XF, impostiamo un pochino le canzoni Resist Hola raga, in diretta da Resist Studio Jam, insomma, session terminata con il grande Emiliano stiamo lavorando non uno, non due, ma a tre piccoli pezzi uno più bello dell'altro speriamo vi piacciono, dico io Resistere e e e e e e e